Salve e benvenuti in questo nuovo progetto dello Scribacchino. Sia che tu stai ascoltando quest'audiolibro su Amazon Music, su Spotify o direttamente su YouTube, questo progetto nasce a seguito delle numerose richieste che mi è stato fatto dal mio pubblico sul leggere qualcosa. Perché non cominciare con Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi? Oggi iniziamo quindi una lettura che ci accompagnerà anche nei prossimi episodi. Quindi mettetevi comodi, preparatevi qualcosa di buono da bere e cominciamo a leggere. C'era una volta un re, diranno subito i miei piccoli lettori. No ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno. Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo da catasta, di quelle che d'inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze. Non so come andasse, ma il fatto è che un bel giorno questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname, il quale aveva nome Mastrantonio, se non che tutti lo chiamavano Maestro Ciliegia, per via della punta del suo naso che era sempre lustra e paonazza come una ciliegia matura. Appena Maestro Ciliegia ebbe visto quel pezzo di legno, si rallegrò tutto e, dandosi una fregatina di mani per la contentezza, borbottò a mezza voce. Questo pezzo di legno è capitato a tempo, voglio servirmene per fare una gamba di tavolino. Detto fatto, prese subito l'ascia arrotata per cominciare a levargli la scorza e di sgrossarlo. Ma quando fu lì per lasciare andare la prima asciata, rimase col braccio sospeso in aria, perché sentì una vocina sottile, che disse raccomandandosi. Non mi picchiare tanto forte, figuratevi come rimase quel buon vecchio di Maestro Ciliegia. Girò gli occhi smarriti intorno alla sua stanza, per vedere di dove mai poteva essere uscita quella vocina, e non vide nessuno. Guardò sotto il banco, e nessuno. Guardò dentro un armadio che stava sempre chiuso, e nessuno. Guardò nel corbello dei truscioli e della segatura, e nessuno. Aprì l'uscio di bottega per dare un'occhiata anche sulla strada, e nessuno. O dunque? Ho capito, disse allora ridendo e grattandosi la parrucca. Si vede che quella vocina me la sono figurata io. Rimettiamoci a lavorare. E ripresa l'ascia in mano, tirò giù un solennissimo colpo sul pezzo di legno. Oi! Tu mi hai fatto male! Gridò rammaricandosi la solita vocina. Questa volta Maestro Ciliegia restò di stucco, con gli occhi fuori dal capo per la paura. Con la bocca spalancata e con la lingua giù ciondoloni finalmente, come un mascherone da fontana. Appena riebbe l'uso della parola, cominciò a dire tremando e balbettando dallo spavento. Ma di dove sarà uscita questa vocina che ha detto Oi? Eppure qui non c'è anima viva. Che sia per caso quel pezzo di legno che abbia imparato a piangere e a lamentarsi come un bambino? Io non lo posso credere. Questo legno, eccolo qui, è un pezzo di legno da caminetto, come tutti gli altri. E a buttarlo sul fuoco, c'è da far bollire una pentola di fagioli. O dunque, che ci sia nascosto dentro qualcuno? Se c'è nascosto qualcuno, tanto peggio per lui. Ora lo accomodo io. E così dicendo, agguantò con tutte e due le mani quel povero pezzo di legno e si mise a sbatacchiarlo senza carità contro le pareti della stanza. Poi si messe in ascolto, per sentire se c'era qualche vocina che si lamentasse. Aspettò due minuti e nulla. Aspettò cinque minuti e nulla. Aspettò due minuti e nulla. Cinque minuti e nulla. Dieci minuti e nulla. Ho capito, disse allora sforzandosi di ridere e arruffandosi la parrucca. Si vede che quella vocina che ha detto OI me la sono figurata io. Rimettiamoci a lavorare. E perché gli era entrata addosso una gran paura, si provò a cantarellare per farsi un po' di coraggio. Intanto, posata da una parte lascia, prese in mano la pialla, per piallare e tirare a pulimento il pezzo di legno. Ma nel mentre che lo piallava in su e in giù, sentì la solita vocina che gli disse ridendo. Smetti! Tu mi fai il pizzicorino sul corpo! Questa volta il povero maestro ciliegia cadde giù come un fulminato. Quando riaprì gli occhi si trovò seduto per terra. Il suo viso pareva trasfigurato e perfino alla punta del naso di Paonazza come era quasi sempre gli era diventata turchina nella gran paura. In quel punto fu bussata alla porta. Passate pure, disse il falegname, senza avere la forza di rizzarsi in piedi. Allora entrò in bottega un vecchietto tutto arzillo, il quale aveva nome Geppetto. Ma i ragazzi del vicinato, quando lo volevano far montare su tutte le furie, lo chiamavano col soprannome di Polendina, a motivo della sua parrucca gialla che somigliava moltissimo alla Polendina di Granno Turco. Geppetto era bizzosissimo, guai a chiamarlo Polendina, diventava subito una bestia e non c'era più verso di tenerlo. Buongiorno Mastro Antonio, disse Geppetto. Che cosa fate, costi per terra? Insegno la bacco alle formicole. Buon provi faccia! Che vi ha portato da me, compar Geppetto? Le gambe! Sappiate, Mastro Antonio, che sono venuto da voi per chiedervi un favore. Eccomi qui, pronto a servirvi, riprecò il falegname rizzandosi sui ginocchi. Stamani mi è piovuta nel cervello un'idea. Sentiamola. Ho pensato di fabbricarmi da me un bel burattino di legno. Ma un burattino meraviglioso, che sappia ballare, tirare di scherma e fare salti mortali. Con questo burattino voglio girare il mondo, per buscarmi un tozzo di pane e un bicchiere di vino. Che ve ne pare? Bravo, Polendina! Gridò la solita vocina, che non si capiva da dove uscisse. A sentirsi chiamare Polendina, compar Geppetto diventò rosso come un peperone dalla bizza, e voltandosi verso il falegname, gli disse imbestialito. Perché mi offendete? Chi vi offende? Mi avete detto Polendina. Non sono stato io. Sta un po' a vedere che sarò stato io. Io dico che siete stato voi. No! Sì! No! Sì! E riscaldandosi sempre di più, vennero dalle parole ai fatti, e acciuffatisi fra di loro, si graffiarono, si morsero e si sbertucciarono. Finito il combattimento, Mastro Antonio si trovò fra le mani la parrucca gialla di Geppetto, e Geppetto si accorse di avere in bocca la parrucca brizzolata del falegname. Rendimi la mia parrucca, gridò Mastro Antonio, e tu rendimi la mia, e rifacciamo la pace. I due vecchietti, dopo aver ripreso ognuno di loro la propria parrucca, si strinsero la mano, e giurarono di rimanere buoni amici per tutta la vita. Dunque, compar Geppetto, disse falegname in segno di pace fatta, qual è il piacere che volete da me? Vorrei un po' di legno, per fabbricare il mio burattino. Me lo date? Mastro Antonio, tutto contento, andò subito a prendere sul banco quel pezzo di legno che era stato cagione a lui di tante paure. Ma quando fu lì per consegnarlo all'amico, il pezzo di legno detto uno scossone, e sgusciandogli violentemente dalle mani, andò a battere con forza negli stinchi impresciuttiti del povero Geppetto. Ah! Gli è con questo bel garbo, Mastro Antonio, che voi regalate la vostra roba? Mi avete quasi azzuppito. Vi giuro che non sono stato io. Allora sono stato io. La colpa è tutta di questo legno. Lo so che è del legno, ma siete voi che me l'avete tirato nelle gambe. Io non ve l'ho tirato. Bugiardo. Geppetto non mi offendete, sennò vi chiamo Polendina. Asino. Polendina. Somaro. Polendina. Brutto scimmiotto. Polendina. A sentirsi chiamare Polendina per la terza volta, Geppetto perse il lume dagli occhi, si avventò sul falegname, e lì se ne dettero un sacco e una sporta. A battaglia finita, Mastro Antonio si trovò due graffi in più sul naso, e quell'altro due bottoni in meno al giubbetto. Pareggiate in questo modo i loro conti, si strinsero la mano, e giurarono di rimanere buoni amici per tutta la vita. Intanto Geppetto prese con sé il suo bravo pezzo di legno, e ringraziato Mastro Antonio se ne tornò zoppicando a casa. La casa di Geppetto era una stanzina terrena, che pigliava a luce da un sottoscala. La mobilia non poteva essere più semplice. Una seggiola cattiva, un letto a poco buono, e un tavolino tutto rovinato. Nella parte di fondo si vedeva un caminetto col fuoco acceso, ma il fuoco era dipinto, e accanto al fuoco c'era dipinta una pentola che bolliva allegramente e mandava fuori una nuvola di fumo, che pareva a fumo davvero. Appena entrato in casa, Geppetto prese subito gli arnesi e si pose a intagliare e fabbricare il suo burattino. «Che nome gli metterò?» disse fra stesse. «Lo voglio chiamare Pinocchio. Questo nome gli porterà fortuna. Ho conosciuto una famiglia intera di Pinocchi. Pinocchio il padre, Pinocchio la madre, e Pinocchio i ragazzi. E tutti se la passavano bene. Il più ricco di loro chiedeva l'elemosina. Quando abbia trovato il nome al suo burattino, allora cominciò a lavorare a buono, e gli fece subito i capelli, poi la fronte, poi gli occhi. Fatti gli occhi, figuratevi la sua maraviglia quando si accorse che gli occhi si muovevano e che lo guardavano fisso fisso. Geppetto, vedendosi guardare da quei due occhi di legno, se ne ebbe quasi per male e disse con accento risentito, «Occhiacci di legno! Perché mi guardate?» Nessuno rispose. Allora dopo gli occhi gli fece il naso, ma il naso, appena fatto, cominciò a crescere e cresci, 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 diventò in pochi minuti un nasone che non finiva mai. Il povero Geppetto si affaticava a ritagliarlo, ma più lo ritagliava e lo scorciva e più quel naso impertinente diventava lungo. Dopo il naso, gli fece la bocca. La bocca non era ancora finita di fare, che cominciò subito a ridere e canzonarlo. «Smetti di ridere, ti ripeto!» urlò con voce minacciosa. Allora la bocca smesse di ridere, ma cacciò fuori tutta la lingua. Geppetto, per non guastare i fatti suoi, finse di non avvedersene e continuò a lavorare. Dopo la bocca, gli fece il mento, poi il collo, le spalle, lo stomaco, le braccia e le mani. Appena finite le mani, Geppetto sentì portarsi via la parrucca dal capo. Si voltò in su e cosa vide? Vide la parrucca gialla in mano al burattino. «Pinocchio! Rendimi subito la mia parrucca!» E Pinocchio, invece di rendegli la parrucca, se la messe in capo per sé, rimanendosi sotto mezzo affogato. A quel garbo insolente e delisorio, Geppetto si fece triste e melanconico, come non era mai stato in vita sua, e voltandosi verso Pinocchio, gli disse «Birba di un figliolo! Non sei ancora finito di fare e già comincio a mancare di rispetto a tuo padre! Male, ragazzo mio! Male!» E si asciugò via una lacrima. Restavano sempre da fare le gambe ai piedi. Quando Geppetto abbia finito di fargli i piedi, sentì arrivarsi un calcio sulla punta del naso. «Me lo merito!» disse allora fra sé. «Dovevo pensarci prima! Ormai è tardi!» Poi prese il burattino sotto le braccia e lo posò in terra, sul pavimento della stanza, per farlo camminare. Pinocchio aveva le gambe aggranchite e non sapeva muoversi, e Geppetto lo conduceva per mano per insegnargli a mettere un passo dietro l'altro. Quando le gambe si furono sgranchite, Pinocchio cominciò a camminare da sé e a correre per la stanza, finché, infilata la porta di casa, saltò nella strada e si dette a scappare. E il povero Geppetto a correre di dietro senza poterlo raggiungere, perché quel birichino di Pinocchio andava a salti come una lepre e, battendo i suoi piedi di legno sull'astrico della strada, faceva un fracazzo come venti paia di zoccoli da contadini. «Piglialo! Piglialo!» urlava Geppetto, ma la gente che era per la via, vedendo questo burattino di legno che correva come un barbero, si fermava incantata a guardarlo e rideva, rideva, rideva da non poterselo figurare. Alla fine, e per buona fortuna, capitò un carabiniere, il quale, sentendo tutto quello schiamazzo e credendo si trattasse di un puledro che aveva levato la mano al padrone, si piantò coraggiosamente a gambe larghe in mezzo alla strada, con l'animo risoluto di fermarlo e di impedire in caso di maggior disgrazia. Ma Pinocchio, quando si avvide da lontano del carabiniere che barricava tutta la strada, si ingegnò di passagli, per sorpresa, fra mezzo alle gambe e invece fece fiasco. Il carabiniere, senza appunto smuoversi, lo ciuffò pulitamente per il naso. Era un nasone spropositato che pareva fatto apposta per essere acchiappato dai carabinieri e lo riconsignò nelle proprie mani di Geppetto, il quale, a titolo di correzione, voleva dargli subito una buona tiratina d'orecchi. Ma figuratevi come rimase quando, nel cercaglielo gli orecchi, non riuscì di poterli trovare. E sapete perché? Perché nella furia di scolpirlo si era dimenticato di farglieli. Allora lo prese per la collottola e mentre lo riconduceva indietro gli disse, tentennando minacciosamente il capo, andiamo a casa. Quando saremo a casa, non dubitare che faremo i nostri conti. Pinocchio, a quest'antifona, si buttò per terra e non volle più camminare. Intanto, i curiosi e i bighelloni principiavano a fermarsi lì d'intorno e a far capannello. Chi ne diceva una, chi un'altra. Povero burattino, dicevano alcuni, ha ragione a non voler tornare a casa, chissà come lo picchierebbe quello maccio di Geppetto. E gli altri soggiungevano malignamente, quel Geppetto pare un galantuomo, ma è un vero tiranno coi ragazzi. Se gli lasciano quel povero burattino fra le mani, è capacissimo di farlo a pezzi. Insomma, tanto dissero e tanto fecero che il carabiniero rimise in libertà Pinocchio e condusse in prigione quel povero uomo di Geppetto, il quale, non avendo parole le lippe a difendersi, piangeva come un vitellino e nell'avviarsi verso il carcere balbettava singhiozzando sciagurato figliolo e pensare che ho penato tanto a farlo burattino per bene, ma mi sta il dovere, dovevo pensarci prima. Quello che accadde poi è una storia da non potersi credere e vi la racconterò in questi altri capitoli. Vi dirò dunque ragazzi che mentre il povero Geppetto era condotto senza sua colpa in prigione, quel monello di Pinocchio, rimasto libero dalle grinfie del carabiniere, se la dava a gambe giù attraverso i campi per far più presto a tornarsene a casa. E nella gran furia del correre saltava gareppi altissimi, siepi di pruni e fossi pieni d'acqua, tale e quale come avrebbe potuto fare un capretto o un leprottino inseguito da cacciatori. Giunto dinanzi a casa, trovò l'uscio di strada socchiuso. Lo spinse, entrò dentro e appena ebbe messo tanto di paletto, si gettò a sedere per terra, lasciando andare un gran sospirone di contentezza. Ma quella contentezza durò poco, perché sentì nella stanza qualcuno che fece. Cri, 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 chi è che mi chiama? disse Pinocchio tutto impaurito. Sono io. Pinocchio si voltò e vide un grosso grillo che saliva lentamente su su per il muro. Dimmi, grillo, e tu chi sei? Io sono il grillo parlante e abito in questa casa da più di cent'anni. Oggi però questa stanza è mia, disse il burattino, e se vuoi farmi un vero piacere vattene subito, senza nemmeno voltarti indietro. Io non me ne andrò da qui, disse il grillo, se prima non ti avrò detto una gran verità. Dimmela e spicciati. Guai a quei ragazzi che si ribellano ai loro genitori e che abbandonano capricciosamente la casa paterna non avranno mai bene in questo mondo e prima o poi dovranno pentirsene amaramente. Canta pure, grillo mio, come ti pare e piace, ma io so che domani, all'alba, voglio andarmene di qui, perché se rimango qui avverrà a me quel che avviene a tutti gli altri ragazzi. Vale dire, mi manderanno a scuola e per amore o per forza mi toccherà studiare. Ed io, a dirtela in confidenza, di studiare non ho appunto voglia e mi diverto più a correre dietro le farfalle e a salire supe gli alberi e prendere gli uccellini di nido. Povero grullerello, ma non sai che facendo così diventerai da grande un bellissimo somaro e che tutti si piglieranno gioco di te, eh? Chiedati, grillaccio del malagurio, gridò Pinocchio. Ma il grillo, che era paziente e filosofo, invece di aversene a male di questa impertinenza, continuò con lo stesso tono di voce. E se non ti garba di andare a scuola, perché non impari almeno un mestiere, tanto da guadagnare onestamente un pezzo di pane. Vuoi che te lo dica? replicò Pinocchio e cominciava a perdere la pazienza. Fra tutti i mestieri del mondo non ce n'è che uno solo che veramente mi va da genio. E questo mestiere sarebbe? Quello di mangiare, bere, dormire, divertirmi e fare dalla mattina alla sera la vita del vagabondo. Per tua regola, disse grillo parlante con la sua solita calma, tutti quelli che fanno codesto mestiere finiscono sempre all'ospedale o in prigione. Bada grillaccio del malagurio se mi monta la bizza guai a te. Povero Pinocchio, mi fai proprio compassione. Perché ti faccio compassione? Perché sei un burattino e quel che è peggio perché hai la testa di legno. A queste ultime parole Pinocchio saltò su tutto infuriato e preso sul banco un martello di legno lo scagliò contro il grillo parlante. Forse non credeva nemmeno di colpirlo, ma disgraziatamente lo colse per l'appunto nel capo, tanto che il povero grillo ebbe appena il fiato di fare cri 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 e poi rimase lì stecchito e appiccicato alla parete. Intanto cominciò a farsi notte e Pinocchio, ricordandosi che non aveva mangiato nulla, sentì un'ugiolina allo stomaco che somigliava moltissimo all'appetito. Ma l'appetito dei ragazzi cammina presto e di fatto dopo pochi minuti l'appetito divenne fame e la fame dal vedere al non vedere si convertì in una fame da lupi, una fame da tagliarsi col coltello. Il povero Pinocchio corse subito al focolare dove c'era una pentola che bolliva e fece l'atto di scoperchiarla per vedere che cosa ci fosse dentro. Ma la pentola era ripinta sul muro. Figuratevi come restò. Il suo naso che era già lungo gli divenne più lungo di almeno quattro dita. Allora si dette a correre per la stanza e a frugare per tutte le cassette e per tutti i ripostigli in cerca di un po' di pane. Magari un po' di pan secco, un crosterello, un osso avanzato di cane, un po' di polenta muffita, una disca di pesce, un nocciolo di ciliegia. Insomma, di qualche cosa da masticare ma non trovò nulla. Il gran nulla. Proprio nulla. E intanto la fame cresceva e cresceva sempre e il povero Pinocchio non aveva altro sollievo che quello di sbadigliare e faceva degli sbadigli così lunghi che qualche volta la bocca gli arrivava fino agli orecchi e dopo aver sbadigliato sputava e sentiva che lo stomaco gli andava via. Allora piangendo e disperando si diceva il grillo parlante aveva ragione ho fatto male a rivoltarmi al mio babbo e a fuggire di casa se mio babbo fosse qui ora non mi troverei a morire di sbadigli oh che brutta malattia che è la fame quando ecco che gli parvi di vedere nel monte della spazzatura qualche cosa di tondo e di bianco che somigliava tutto a un uovo di gallina spiccare un salto e gettarvisi sopra fu un punto solo era un uovo davvero la gioia del burattino è impossibile descriverla bisogna sapersola figurare credendosi che quasi fosse un sogno si rigirava quest'uovo fra le mani e lo toccava e lo baciava e baciandolo diceva e ora come dovrò cuocerlo? ne farò una frittata? no è meglio cuocerlo nel piatto o non sarebbe più saporito se lo friggessi in padella? o se invece lo cuocessi a uso uovo da bere? no la più lesta di tutte è di cuocerlo nel piatto o nel tegamino ho troppa voglia di mangiarmelo detto fatto pose un tegamino sopra un caldano pieno di braccia accesa messo nel tegamino invece di olio o di burro un po' d'acqua e quando l'acqua principiò a fumare tac spezzò il guscio dell'uovo e fece l'atto di scodellarvelo dentro ma invece della chiara e del tuorlo scappò fuori in pulcino tutto allegro e complimentoso il quale facendo una bella reverenza disse mille grazie signor Pinocchio da avermi risparmiato la fatica di rompere il guscio arrivederla stia bene e tanti saluti a casa ciò detto distese le ali e infilata la finestra che era aperta se ne volò via perdita d'occhio il povero burattino rimase lì come incantato con gli occhi fissi con la bocca aperta e coi gusci dell'uovo in mano riavutosi peraltro dal primo sbigottimento cominciò a piangere a strillare a battere i piedi per terra per la disperazione e piangendo diceva eppure il grillo parlante aveva ragione se non fossi scappato di casa e se mio babbo fosse qui ora non mi troverei a morire di fame oh che brutta malattia che è la fame e perché il corpo gli seguitava a brontolare più che mai e non sapeva come fare a chietarlo pensò di uscire di casa e di dare una scappata al paesello vicino nella speranza di trovare qualche persona caritatevole e chi avesse fatto l'elemosina di un po' di pane per l'appunto era una notta taccia di inferno tonava forte forte lampeggiava come se il cielo pigliasse fuoco e un ventaccio freddo e strapazzone fischiando rabbiosamente e sollevando un immenso nuvolo di polvere facendo stridere e cigolare tutti gli alberi della campagna Pinocchio aveva una gran paura dei tuoni e dei lampi se non che la fame era più forte della paura motivo per cui accostò l'uscio di casa e presa la carriera in un centinaio di salti arrivò fino al paese con la lingua fuori e col fiato grosso come un cane da caccia ma trovò tutto buio e tutto deserto le botteghe erano chiuse le porte di casa chiuse le finestre chiuse e nella strada nemmeno un cane pareva il paese dei morti allora Pinocchio preso dalla disperazione e dalla fame si attaccò al campanello di una casa e cominciò a suonare a distesa dicendo dentro di sé qualcuno si affaccerà di fatti si affacciò a un vecchino col berreto da notte in capo il quale gridò tutto stizzito che cosa volete a quest'ora che mi faresti piacere di darmi un po' di pane aspetta amico stick e torno subito rispose il vecchino credendo di avere a che fare con qualcuno di quei ragazzacci rompicollo che si divertono di notte a suonare i campanelli delle case per molestare la gente per bene che se la dorme tranquillamente dopo mezzo minuto la finestra si riaprì e la voce del solito vecchino gridò a Pinocchio fatti sotto e para il cappello Pinocchio si levò subito il suo cappelluccio ma mentre faceva l'atto di pararlo sentì pioversi addosso un'enorme catinellata d'acqua che lo annaffiò tutto dalla testa ai piedi come se fosse un vaso di gerani appassito tornò a casa bagnato come un pulcino e rifinito dalla stanchezza e dalla fame appoggiando i piedi fradici e impillaccherati sopra un caldano pieno di braccia accesa e si addormentò e nel dormire i piedi che erano di legno gli presero fuoco e ad agio ad agio gli si carbonizzarono e divennero cenere e Pinocchio seguitava a dormire e a russare come se i suoi piedi fossero quelli di un altro finalmente sul fal del giorno si svegliò perché qualcuno aveva bussato alla porta chi è? domandò sbadigliando e stropicciandosi gli occhi sono io dispose una voce quella voce era di geppetto il povero Pinocchio che aveva sempre gli occhi fra il sonno non si era ancora visto dei piedi che gli si erano tutti bruciati per cui appena sentì la voce di suo padre schizzò giù dallo sgabello per correre a tirargli il paletto ma invece dopo due o tre traballoni cadde di picchio tutto lungo e disteso sul pavimento e nel battere in terra fece lo stesso rumore che avrebbe fatto un sacco di mestoli cascato da un quinto piano aprimi intanto gridava geppetto dalla strada babbo mio non posso rispose Burattino piangendo arruzzolandosi per terra perché non puoi perché mi hanno mangiato i piedi e che te l'ha mangiati il gatto disse Pinocchio vedendo il gatto che con le zampine davanti si divertiva a far ballare alcuni trucioli di legno aprimi ti dico ripete Geppetto se no quando vengo in casa il gatto te lo do io non posso star ritto credetelo oh povero me povero me che mi toccherà camminare coi ginocchi per tutta la vita Geppetto credendo che tutti questi piagnistei fossero un'altra monelleria del Burattino pensò bene di farla finita e arrampicandosi su per il muro entrò in casa dalla finestra da principio voleva dire e voleva fare ma poi quando vide il suo Pinocchio sdraiato a terra e rimasto senza piedi davvero allora sentì intinerirsi e presolo subito in collo gli si è dette a baciarlo e fai mille carezze e mille moine e con lucciconi che gli cascavano giù per le gote gli disse singhiozzando Pinocchio mio com'è che ti sei bruciato i piedi non lo so babbo ma credetelo che è stata una nottata d'inferno e me ne ricorderò finché campo tonava balenava e io avevo una gran fame e allora il grillo parlante mi disse ti sta bene sei stato cattivo e te lo meriti e io gli tirai un martello di legno e lui morì ma la colpa fu sua perché io non volevo ammazzarlo prova ne sia che messe un tegamino sulla braccia accesa del caldano ma il pulcino salto fuori e disse arrivederla e tanti saluti a casa e la fame cresceva sempre motivo per cui quel vecchino col berretto di notte la finestra mi disse fatti sotto e pare al cappello e io con quella catinellata d'acqua sul capo perché il chiedere un po' di pane non è una vergogna vero? e io con quella catinellata d'acqua sul capo perché il chiedere un po' di pane non è vergogna non è vero? mi tornai subito a casa e perché avevo sempre una gran fame misi i piedi sul caldano per asciugarmi e voi siete tornato e io me li sono trovati bruciati e intanto la fame l'ho sempre e i piedi non li ho più e il povero Pinocchio cominciò a piangere e a berciare così forte che lo sentivano da 5 km lontano Geppetto che di tutto quel discorso arruffato aveva capito una cosa sola cioè che Burattino sentiva morirsi della gran fame tirò fuori di tasca tre pere e porgendogli disse queste tre pere erano la mia colazione ma io te le do volentieri mangele e buon però ti faccia se volete che le mangi fatemi piacere di sbucciarle sbucciarle? replicò Geppetto meravigliato non avrei mai creduto ragazzo mio che tu fossi così boccuccio e così schizzinoso di palato male in questo mondo fi da bambini bisogna avversarsi a boccati e a saper mangiare di tutto perché non si sa mai quello che ci può capitare e i casi sono tanti voi direte bene soggiunse Pinocchio ma io non mangerò mai una frutta che non sia sbucciata le bucce non le posso soffrire e quel buon uomo di Geppetto cavato fuori un coltellino e armatosi di santa pazienza sbucciò le tre pere e pose tutte le bucce sopra un angolo della tavola quando Pinocchio in due bocconi ebbe mangiato la prima pera fece l'atto di buttare via il torsolo ma Geppetto gli trattenne il braccio dicendogli non lo buttare via tutto in questo mondo può far comodo ma io il torsolo non lo mangio davvero gridò il burattino rivoltandosi come una vipera chi lo sa i casi sono tanti ripete Geppetto senza scaldarsi fatto sta che i tre torsoli invece di essere gettati fuori dalla finestra vennero posati nell'angolo della tavola in compagnia delle bucce mangiate o per dir meglio divorate le tre pere Pinocchio fece un lunghissimo sbadiglio e disse Pignocolando ho dell'altra fame ma io ragazzo mio non ho più nulla da darti proprio nulla nulla ci avrei soltanto queste bucce e questi torsoli di pera pazienza disse Pinocchio se non c'è altro mangerò una buccia e cominciò a masticare da principio storza un po' la bocca ma poi una dietro l'altra spolverò in un soffio tutte le bucce e dopo le bucce anche i torsoli e quando ebbe finito di mangiare ogni cosa si batte tutto contento le mani sul corpo e disse gongolando ora si che sto bene vedi dunque osservò Geppetto che avevo ragione io quando ti dicevo che non bisogna avversarsi né troppo sofistici né troppo delicati di palato caro mio non si sa mai quel che ci può capitare in questo mondo e i casi sono tanti che ci sono